La testa! La testa! Alessandro, è qua sotto! Non è qua sotto! Si, è la via su di qua! Oh, vai lì! Oh, vai lì! Non dì lì, non dì lì! Eh, secondo me! Il cazzo che devo mettere! Non dì lì! 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 Allora, a parte che... A parte che ci sono fattigliati che piano tutte queste fattiglie si ce la occupa già! Non ci voglio dire che... Poi... Poi... Vedete il riccio! Oh, oh! Qua! Mamma mia! Non dì! Non dì! Qua! Vado a entrare! Vedete... Come tre c'è? Ma possiamo accendere? Accende? Accendi là! Non si Trump!